Paolo Grimoldi, la vediamo addosso con la maglia della Catalogna durante il question time al governo, che cosa avete chiesto? Abbiamo chiesto se risponde al vero il fatto della candidatura di Roma e soprattutto alle Olimpiadi e soprattutto a quanto ammonta il debito della città di Roma. Il debito della città di Roma sono circa 23 miliardi di euro, quindi quasi l'Imu pagata due anni da tutti i cittadini dello Stato italiano e quindi un debito enorme e nonostante questo Roma viene candidata alle Olimpiadi dove vi sarebbe una pioggia di soldi pubblici pagati dallo Stato e pagati dai comuni che a differenza di Roma non hanno buchi di bilancio, hanno ben gestito e sono tutti i comuni del nord. Amministrati da destra, sinistra, centro, da quello che volete, ma non è tollerabile in un momento di crisi che ancora una volta avvenga questa pioggia di soldi. E con la maglietta della Catalogna, perché le ultime Olimpiadi con un bilancio positivo sotto il profilo economico ma anche culturale, sono state le Olimpiadi di Barcellona e oggi in Catalogna c'è una grande manifestazione per chiedere il referendum per l'indipendenza della Catalogna e quindi abbiamo unito le due cose per far sentire la nostra vicinanza qua in Parlamento ai fratelli catalani che oggi manifestano la loro voglia di libertà. Resta poi anche da capire perché il PD che era nel governo con Monti aveva detto di no a Roma con le Olimpiadi con Alemanno e invece adesso nel giro di un anno ha cambiato idea con Marino. Hanno cambiato idea come cambiano idea ogni due per tre, il dato di fatto però è che a prescindere dai colori politici non è tollerabile questa ennesima pioggia di soldi anche perché lo Stato sta già contribuendo con 300 milioni di euro ogni anno al bilancio del Comune di Roma a differenza dei bilanci in tutte le altre città da Torino a Venezia, Bologna, Milano piuttosto che Firenze dove invece non arriva il becco di un quattrino mentre a Roma già in automatico arrivano questi soldi pagati dallo Stato centrale. Ci manca solo delle Olimpiadi per un ulteriore sborso e quindi poi tramite questi sborsi abbiamo la certezza che ci aumentano l'IVA, che non ci abbassano l'IMU e quant'altro. Noi diciamo semplicemente che questa situazione deve finire, Roma ripiani i suoi debiti, si metta in carreggiata come tutti gli altri comuni, soprattutto quelli del centro nord che sono virtuosi e non inventiamoci barzellette o scuse come le Olimpiadi per far pagare ai cittadini del nord le mancanze e la malagestione del Comune di Roma. Milano invece potrebbe essere una buona candidata? Partiamo da un dato evidente e numerico. Il bilancio di Milano non è in rosso e non ha 23 miliardi di buco come Roma. Penso che 23 miliardi di buco per una città sia il record planetario. Ma oggi, proprio oggi, 260 città del nostro paese, da Arezzo a Trieste, da Monza a Imperia, da Cremona a Genova, da Lecco a Lucca, da Rovigo a Biella, da Ascoli a Milano, hanno alzato l'aliquota IRPEF al massimo possibile per cercare di far fronte ai tagli del governo. Roma invece, nonostante un debito record planetario, che invece di 23 sia 15, però la sostanza poco cambia, record planetario di debito per una singola città, riceve dallo Stato centrale ogni anno 300 milioni di euro, a differenza di tutte le altre città del paese. Roma è l'unico caso nel nostro paese, e non solo, che ha la deroga sul patto di stabilità rispetto anche a città come Milano, che hanno appuntamenti di livello internazionale come l'Expo 2015. Le ricordo, tra l'altro, che Roma non è assolutamente dotata di alcuna infrastruttura, le manca dal termovalorizzatore, la stazione Termini è un caos a cielo aperto, due linee metropolitane poco funzionanti. E la situazione, per quanto riguarda le Olimpiadi, le ricordo il caso della Grecia, dove dopo le Olimpiadi di Atene del 2004 e i relativi immensi costi, è iniziata la profonda e drammatica crisi finanziaria della Grecia, che oggi tutti conosciamo. L'ultimo caso, invece positivo, è quello delle Olimpiadi che risalgono al 1992 di Barcellona, realtà assolutamente virtuosa, che da quelle Olimpiadi, sotto il vessillo catalano, iniziò a richiedere con forza l'indipendenza. Indipendenza che proprio oggi, 11 settembre 2013, con una manifestazione di portata storica, i catalani stanno tornando a chiedere. E chiudo, ricordando che alle Olimpiadi del 1992, persino Re Juan Carlos fu costretto a parlare, non in spagnolo, ma in catalano. E presto o tardi, anche voi qui nei palazzi romani, sarete costretti a parlare la lingua delle genti del nord, che è la lingua della meritocrazia, la lingua della libertà, la lingua sconosciuta in questi palazzi di Roma, della cultura del lavoro. Grazie.